Grazie, buonasera. Mi fa molto piacere essere qui e parlare del pane e della parola e parlare della solidarietà. Parlerò di questo tema prima allacciandomi alle tradizioni religiose, in particolare al cristianesimo, poi vedrò come questo si è sviluppato a partire del Cinquecento in un pensiero chiamiamolo laico, un pensiero sull'umanità, la solidarietà e l'umanità. E infine voglio concludere con una domanda che già vi preannuncio. È possibile ancora essere solidali in un tempo globale come il nostro in un tempo di acceso individualismo. Vorrei partire da un episodio, un episodio di tanti anni fa che però mi è rimasto molto in mente. Era un venerdì e stavo ad Algeri, Alger la Blanche, la chiamavano i buoni sempre con meraviglia verso questa città che avevano costruito attorno alla città antica, turco-araba. Bene, una scena mi colpì. All'uscita della preghiera della moschea c'erano alcune donne con delle buste e dalle buste emergevano delle baguette, un chiaro retaggio della contaminazione della cucina francese nel mondo della cucina arabo-algerina, nel mondo del couscous. Ma mi spiegarono che quel pane che le donne portavano fuori dalla moschea veniva donato ai mendicanti che stavano lì o altri bisognosi. Era la zakat, l'elemosina spontanea o sadika, che vuol dire amica, sincera, che era un'elemosina diversa da quella rituale, una specie di tassa che il credente dovrebbe offrire. Il tema dell'elemosina è frequente nel Corano. Vi si legge nella sura 2. Una parola gentile di perdono è meglio di un'elemosina seguita dall'offesa. O voi che credete, non rovinate le vostre elemosina rinfacciando o offendendo. Dare il pane a chi ha fame costituisce un atto meritorio nell'islam. Ed è significativo però che si venga avvertiti del fatto che l'elemosina può essere accompagnata, viene accompagnata tante volte dal rinfaccio, l'umiliazione, l'offesa. Vale più dire una parola gentile che dare un'elemosina, meglio parlare che dare malamente. Gregorio Magno, papa di Roma, morto nel 604, è quasi contemporaneo del profeta dell'islam, Muhammad, che è morto una trentina di anni dopo. Gregorio, un grande padre del cristianesimo occidentale e il profeta dell'islam, vissero in due universi diversi, lontani, l'uno remoto all'altro. Gregorio visse un dramma, lo sfaldamento di un sistema che sembrava eterno, quello di Roma. E Roma veniva minacciata dagli stranieri, dai barbari. E nella capitale e nelle campagne vicine così insicure, fame, insicurezza, epidemia, erano problemi quotidiani. E Gregorio, oltre al suo ministero religioso, cominciò a esercitare, potremmo dire, una cura delle popolazioni, quasi un governo delle popolazioni. A partire dall'estese proprietà della Chiesa romana, si preoccupò particolarmente dell'approvvigionamento di frumento di Roma, un approvvigionamento così necessario in una Roma che era spesso alla fame, mancava il pane. E sulla tomba di Gregorio fu posto un epitaffio che diceva, vinse la fame con il cibo e il freddo con le vesti. Insomma, un grande organizzatore che dava da mangiare al suo popolo. Ma colpisce che Gregorio, parlando al popolo romano, e Gregorio era un grande predicatore, un grande comunicatore, colpisce che Gregorio, lui organizzatore delle risposte alla fame, si diffonda su un dettaglio che vorrei sottolineare alla vostra attenzione. La necessità di non dare solo pane al povero, ma anche di dirgli parole. Mai il dono con disprezzo, dice, mentre commenta la parabola evangelica del povero Lazzaro, che giaceva affamato tra i cani alla porta di un ricco, il quale banchettava lautamente in faccia a lui. Dice Gregorio, ogni giorno troviamo Lazzaro, ogni giorno ci imbattiamo con lui, i poveri si presentano a noi anche importunandoci. Quando vedete quelli che sono umiliati in questo mondo, anche se vi sembra discorgere in loro dei difetti, non disprezzateli. Date col pane la vostra parola, il pane che nutre, la parola che corregge e aiuta. Io questo è un punto che mi ha colpito nella sensibilità di questo uomo del mondo antico. Date col pane la vostra parola. E addirittura nella regola pastorale Gregorio dice, quando date qualcosa ai poveri di cui hanno bisogno, non è un dono, ma è una restituzione. Così scrive nella regola pastorale. Gregorio è sulla linea di Giovanni Crisostomo, vissuto 300 anni prima tra Antiochia e Costantinopoli, vede nel bisognoso e nell'affamato Cristo stesso. Ed è la lettura coerente col Vangelo, con la parabola del giudizio finale, Matteo 25. E in fondo c'è da cogliere come il dono del pane possa essere fatto con disprezzo, come verso inferiori o con senso di superiorità. Una grande lemosina illustra la grandezza di chi la dà. E la distanza tra chi offre il pane e chi lo riceve, per Gregorio, per alcuni padri nella sua linea, va cancellata. E viene cancellato in un modo solo, con la parola, perché l'elemosina da sola conferma la distanza. Io, parlando del dare con disprezzo, ho spesso, quando ci penso e quando ne parlo, ho spesso negli occhi una immagine. Vorrei evocarla. Negli anni 80, Stetti, per un periodo in Mozambico, allora stato socialista, appena decolonizzato, vicino all'Unione Sovietica, da poco indipendente, con una classe dirigente, dalla ferrea della volontà di creare una nuova società. Un uomo e una donna nuovi. Una volontà ingenua e crudele. fu testimone, anche nella capitale, di una grande miseria, soprattutto di fame. La gente aveva fame. Ed era causata, questa fame, dall'interrompersi delle comunicazioni intorno alla città, dal fatto che non si coltivavano più le campagne per la guerra tra il potere e la guerriglia, diciamo tra il potere filosovietico e la guerriglia sostenuta dal regime razzista sudafricano. L'immagine della fame che porto sempre con me è il grande mercato centrale di Maputo, tutto vuoto, solo con un banco che vendeva pesce secco. Ma non questo solo mi ha colpito, ma c'ho un'immagine di quella che era cosiddetta la loggia franca. Che cos'era? Era un supermercato, ma così diverso dal mercato centrale. Era rigorosamente riservato ai dirigenti del partito unico al potere, alle loro famiglie, ai diplomatici e agli stranieri accreditati. In quella loggia franca, in quel supermercato, si trovava quello che al mercato non c'era. E davanti a quel supermercato ben vigilato, in cui non solo pochi privilegiati potevano entrare, c'era un gran giro di auto di chi faceva la spesa. Sulla porta, perché come ho detto non potevano entrare, c'erano dei ragazzi mozambicani, malvestiti. Questi ragazzi si offrivano di aiutare i fortunati che avevano accesso alla loggia e uscivano portando la loro spesa. I fortunati, in cambio, e il gesto mi è rimasto sempre impresso, non gli offrivano qualcosa, non gli davano una moneta, ma spesso, a distanza o dall'auto, tiravano ai ragazzi un frutto o qualcosa altro, un po' come si fa con un animale. Il gesto sprezzante che esprimeva un gesto sprezzante che esprimeva tutta la distanza tra due mondi, un mondo che mangiava e un mondo di ragazzi affamati. Un modo di dare il pane terribile e arrogante. Si comprende allora perché nei testi religiosi antichi, seppure questi testi invitino al dono, nei testi religiosi antichi si rischia, si insiste sul rischio del disprezzo o dell'offesa. Non basta il pane, dicono, ma occorre la parola. Io non voglio entrare nel tema del pane anche solo nella tradizione cristiana, anche solo nei Vangeli. André Venen, in un libro dal titolo molto significativo, non di solo pane, scrive «Nel rapporto con il cibo si giocano la vita e la morte, l'umanizzazione dell'uomo attraverso l'accaparramento e la generosità, la violenza e l'amitezza, l'assassinio o il dono della vita». A partire dal pane e dal cibo si può scegliere il disprezzo, l'accaparramento oppure la generosità o la condivisione. Per dirla in altri termini, a tavola si vede la qualità di un'umanità, la qualità di una società, la qualità di una persona. Un dramma cristiano per secoli è stato il pane senza solidarietà. Accenno solo al tema della tavola in comune che tocca i primi secoli del cristianesimo. La tavola in comune dei cristiani unisce nella memoria della cena, nel memoriale della cena di Gesù, ma anche nell'agape condivisa e fraterna. Perché gente che si sente cristiana condivide l'agape comune, la tavola comune, nonostante sia di provenienza sociale e religiosa. Alcuni venivano dalle religioni politeiste, altri venivano dall'ebraismo, altri da esperienze spirituali particolari. Ebrei e non ebrei, gente di ceto diverso attorno alla stessa tavola. Ma la diversità, le diversità però, si fanno proprio evidenti alla tavola comune, non solo per gli interdetti alimentari degli uni, ma per gli usi delle varie classi sociali e per la qualità del cibo che gli uni consumavano e gli altri no. A Corinto la comunanza di tavola suscita problemi incredibili. Si fa fatica a mangiare insieme. Non si mangiano le stesse cose, perché mangiare insieme vuol dire riconoscersi dello stesso modo, vuol dire riconoscersi della stessa famiglia. Dopo il Vaticano II, a metà novecento, ha avuto successo un versetto della Didache. La Didache è un testo tra la primine del primo secolo e l'inizio del secondo secolo, un secolo perduto, ritrovato nell'ottocento, un testo perduto, ritrovato nell'ottocento. Questo versetto dice, se condividiamo il pane del cielo, come non condividere quello della terra? Ma il pane evidenzia distanze e divisioni, oppure evidenzia la volontà di fraternità. Condividere il pane della terra non è facile, non è spontaneo. Lo si vede in antiche comunità cristiane entusiaste. Ne abbiamo un documento in quello che Paolo scrive ai Corinti, arrabbiato. Ciascuno dice, quando partecipa alla cena, prende prima il proprio pasto, così uno ha fame e l'altro è ubriaco. Ma mangiate nelle vostre case. Cioè ci sono quelli che consumano il proprio cibo e non lo condividono con gli altri. Ci sono quelli che fanno così. Ma per Paolo questo è un'umiliazione dei fratelli più poveri e un oltraggio all'unità della famiglia cristiana della Chiesa. Cioè la tavola, luogo di intimità, di gusti, di abitudini di gruppo, mette in luce il classismo dei vari gruppi sociali. Paolo lotta perché la comunanza, la tavola, esprima eguaglianza e fraternità. Ma poi la tavola comune progressivamente nei secoli col crescere delle comunità cristiane scompare. La tavola è la prova della fraternità e la tavola non è solo pane condiviso. Ma vicinanza, parola. Plinio il giovane, morto nel 114 d.C., illustra bene il classismo a tavola. Quando esalta un padrone di casa molto raffinato, dice, per sé e per pochi imbandiva cibi ricercati, per tutti gli altri cibi di poco valore. E anche il vino lo metteva in piccole bottiglie in tre categorie. Una per lui e per noi, l'altra per gli amici meno importanti perché graduava le amicizie, l'ultima per i liberti suoi e noi. È il classismo a tavola. Le religioni, nella loro storia, in situazioni e tempi diversi perché si dice le religioni, ma è una cosa è il cristianesimo del novecento, un'altra è il cristianesimo mille anni prima. Le religioni hanno quasi sempre cercato di dare il pane a chi aveva fame o hanno spinto i fedeli a dare il pane. Ma sono state sfidate dal senso di superiorità, dal disprezzo perché non basta dare solo il pane. Solo il pane con la parola fa la solidarietà, fa la fraternità. Anche perché il povero non è solo un affamato, ha bisogno di parlare, ha bisogno di essere chiamato per nome come ognuno di noi perché la povertà si accompagna a una grande realtà di solitudine e di assenza di relazioni. Questo tema della parola non è secondario. Io vorrei fare una osservazione che ci porta nell'attualità. Vorrei accennare brevemente ai senza fissa dimora che popolano le nostre città e voi sapete che i senza fissa dimora hanno storie complicate, diverse, ma tutte marcate da una solitudine profonda, senza fissa dimora e spesso senza parole con chi passa vicino e magari affretta il passo preoccupato. Chi ha esperienza di questo mondo, un pochino ce l'ho io, un poco, solo poco, solo poco. Chi ha esperienza di questo mondo, che popola le nostre città, a Roma ce ne sono circa 8-9 mila, sa bene come la deprivazione di quasi tutto sia accompagnata da un silenzio enorme. Mancano le parole, il dialogo, mai si è chiamati per nome. Chi ha esperienza di questo mondo conosce la fame di parole e di conversazione, espressa anche dalla volontà di taluni di raccontare la propria storia. Il pane, nel sentire comune, ha conservato per secoli un valore simbolico, sacro, con l'idea di raccontare. Il pane non si butta mai, dicevano alcuni dei nostri vecchi. Forse per un ricordo della sacramentalità dell'eucaristia. Ma il vino si poteva buttare, il pane no. Forse per il fatto che è legato perché è un alimento prezioso, basico. C'è rispetto al pane, così basilare nella dieta di molti, l'idea di una sua destinazione universale. Non so come dirlo, ho scelto di dirlo con le parole di Davide Maria Turoldo in una raccolta di poesie intitolata Il sapore del pane. Lui scrive, l'ultimo pane è per chi ha fame. È la tradizione che bisogna lasciare qualcosa, un po' di pane per chi verrà. È l'idea di non mangiarlo tutto. Cioè il mio pane non è tutto mio. L'ultimo pane è per chi verrà. Quasi una ribellione all'appropriazione totale del pane. Anche Pablo Neruda canta l'universalità del pane. Il pane non è solo per me. Dice il pane di ogni uomo ogni giorno arriverà perché andammo a seminarlo non per un uomo ma per tutti, per tutti i popoli e con esso ciò che ha forma e sapore di pane divideremo. La terra, la bellezza, l'amore, tutto questo ha sapore di pane. Pane non per uno solo ma per ogni uomo, per tutti. Cioè a seguire Neruda il sapore del pane è quello di una terra condivisa assieme all'amore e alla bellezza. Sembra insomma che il pane quasi si trascenda, che il pane non possa restare solo nelle mani del proprietario di chi l'ha comprato. Il pane è di tutti. D'altra parte tra i tanti significati del pane uno mi colpisce. Il pane significa anche l'intimità familiare, la prossimità. La mia amica Edith Brook, ragazza ebrea, ungherese, contadina, povera, strappata dalla sua povera casa mentre i gendarmi ungheresi irridevano suo padre che aveva sul petto le medaglie guadagnate della guerra ma era ebreo e le sue medaglie non contavano niente. Lei col padre, la madre, la famiglia stanno per essere portati via da casa per andare prima al ghetto e poi allo sterminio. E ricorda ancora, e lo ha scritto più volte, la madre che al momento della deportazione gridava il pane, il pane. Il ricordo della madre, della vita familiare di quel villaggio ungherese, discriminati tra i poveri contadini, è diventata il pane perduto, un romanzo memoria. Perché il sapore del pane è anche quello dell'intimità, ma allo stesso tempo il sapore del pane è anche la chiamata a condividere il pane stesso, la solidarietà. Per tornare al cristianesimo, questo è il dramma che ha spaccato il cristianesimo. Il cristianesimo in alcuni momenti ha colto il valore della solidarietà che promana dal pane, ma in altri momenti ha vissuto un divorzio tra il pane e la parola. Un'elemosina univoca dall'alto che non crea solidarietà, un'elemosina incapace di cogliere la voglia di riscatto del povero. Perché nelle parole di chi ha bisogno c'è una voglia di riscatto, una voglia di esistere e di esistere forse in maniera diversa. Il cristianesimo orientale, meno organizzato dei cattolici che hanno dato luogo a grandi opere caritative, ha colto questo dramma. Un francese, teologo ortodosso, che io amo molto, Olivier Clément, morto dieci anni fa, ha proprio parlato del divorzio tra le aspirazioni di riscatto del mondo degli esclusi e la Chiesa. Lui dice è un divorzio che è all'origine del conflitto tra movimento socialista e comunista che proponeva una redenzione sociale e il cristianesimo stesso. Per concludere questo tema su cui mi sono tanto a lungo soffermato, vorrei ricordarvi, sempre proveniente dal mondo orientale cristiano, il filosofo russo Berdiyev, che aveva vissuto la rivoluzione bolscevica, che era stato critico del prometeismo marxista, ma anche dell'individualismo che separava fede e giustizia sociale. Berdiyev, poi arrivato in occidente, lui tocca il tema del pane della solidarietà con una profondità grande. Scrive, quella del pane per me, cioè per me, per la mia persona voglio dire, quella del pane per la mia persona è una questione materiale, ma la questione del pane per il mio prossimo, per gli uomini di tutto il mondo è una questione spirituale. La società deve essere organizzata in modo che ci sia pane per tutti. Soltanto allora la questione spirituale si porrà davanti all'uomo in tutta la sua profonda essenza. Vedete il filo rosso della tensione tra elemosina, indifferenza e solidarietà attraversa i secoli. Però la solidarietà non è qualcosa di remoto. Certo, ci troviamo in un tempo, in questo nostro tempo globale, in cui tanti noi solidali si sono sciolti o si sono allentati, la famiglia, i partiti, i sindacati, le chiese, aggregazioni di ogni tipo, mentre si afferma come dimensione normale l'io. E allora il legame solidale non è destinato a finire? La pressante affermazione della logica economica tende a ridurre i diritti sociali, lo stato sociale. Però, diciamo la verità, lo stato moderno, nonostante ogni due anni ne taglino un pezzo, è intriso di solidarietà. Perché l'affermazione di questa pratica della solidarietà è legata alla proclamazione dell'eguaglianza degli esseri umani. Proclamazione dell'eguaglianza degli esseri umani che ha portato anche all'affermazione dei diritti umani. Lo so, la parola solidarietà nasce tardi, ma la solidarietà nasce prima della parola. L'origine latina della parola è nell'aggettivo solidus, compatto, pieno, intero, da cui l'espressione giuridica antica, pagare il solido. Nel Cinquecento, dopo la scoperta dell'America, quando l'uomo si sente più soggetto della storia, un giovane umanista, Etienne de la Boétie, a 22 anni, sarebbe morto otto anni dopo, un ragazzo, scrive Il discorso della servitù volontaria, un testo tanto apprezzato da Montaigne. Il cuore di questo libro, arriverò poi alla solidarietà, il cuore di questo libretto, è un appello, decidetevi a non servire più ed eccovi liberi. È un appello, non siate più servi. Ma chi si diceva libero non era solo. In La Boétie c'è la radice della solidarietà moderna. Così afferma Stefano Rodotà, che ha scritto un bel libro sulla solidarietà, chiamandola utopia necessaria. Cioè, più l'uomo emerge come protagonista, più si pone il problema del rapporto con i suoi simili. Più è libero, più sente la chiamata alla solidarietà e forse più è libero e più ha bisogno di solidarietà. Solidarietà nella triade della rivoluzione francese si chiama fraternità. Libertà, uguaglianza, fraternità. Certo, la fraternità è la sorellina debole, poco cresciuta, poco curata, meno importante. Napoleone la sostituisce con proprietà. Libertà, uguaglianza e proprietà. Addio fraternità. Non è casuale, perché nella storia della nostra Europa la solidarietà pone un limite all'assoluto della proprietà. La solidarietà, cari amici, è stata nei secoli una tensione creatrice di storie, di diritto, di esperienze e di istituzioni. Con il primato della proprietà il diritto diventa meno solidale. Libertà e uguaglianza diventano più deboli se subordinate alla proprietà. Non posso qui fare una sintesi. Mi permettete di citare solo qualche riga di un bel libro sulla solidarietà di circa 40 anni fa, ma che fa una sintesi che resta vigorosa di Jean Dovignot. La solidarietà è l'idea di un diritto sociale che emerge con grozio. Leibniz, i fisiocrati del XVIII secolo, l'enciclopedia, la solidarietà anima la rivoluzione americana, da figura a questa federazione che infiamma la Francia dal 1789 al 91 e che poi i giacobini pervertiranno. È un'idea che risorge con i filosofi e pensatori sociali, da Fichte a Prudhomme, un'immagine nuova che evoca allo stesso tempo l'autonomia dei gruppi davanti allo e la complicità degli uomini innanzi ai poteri. E conclude con una definizione, con un punto interrogativo anzi. Si può parlare della solidarietà come una rivoluzione permanente? Io penso che c'è una grande verità in questo. Solidarietà è una grande tensione creatrice di comportamenti, istituzioni, realtà. Quando l'espressione solidarietà si smarca dal linguaggio duridico, siamo nei primi decenni dell'Ottocento, assume il significato attuale. Secondo Pierre Leroux, solidarietà, si parla di mutua solidarietà tra gli uomini. Vi ho citato questa figura ottocentesca, francese, Leroux, non per fare l'erudito, ma è una storia interessante perché è socialista repubblicano, critico nei confronti di una carità come l'emosina, inventore del termine socialismo, muore nel 1871. Cioè è la linea di una rivoluzione pacifica e permanente, capace di riamicare e di riassociare la gente. Rodotà scrive, dotata di virtù trasformative, la solidarietà solidarietà si esercita in primo luogo su se stessa per non restare prigioniera dell'uno o l'altra manifestazione storica. Infatti, tra l'Ottocento e il Novecento la parola solidarietà la troviamo nelle esperienze più diverse, nei pensieri più diversi, ma tutto questo diventa patrimonio comune. Resta nella società uno spazio immenso in cui la dinamica solidale può esercitarsi liberamente con la sua azione creatrice sollecitata dai bisogni delle donne e degli uomini. E Rodotà ancora dice che la solidarietà è l'antidoto alla frammentazione sociale. In un qualche modo è un principio correttivo del mercato. Per la sua collocazione in alcune Costituzioni incoraggia il welfare e pone limiti al mercato. La troviamo all'articolo 2 della Costituzione italiana. Per concludere questo tipo di pensieri io voglio dire che la tensione solidale è una rivoluzione permanente della società europea nel cui solco si iscrivono storie, tentativi differenti che sono anche contradditori tra di loro, anche conflittuali. Però riflettendo su questo, su tutta questa diversità, mi è venuto da pensare che forse la solidarietà non ha contenuto. Ma no, mi sono detto, ha contenuto. È questa tensione, questa tensione agli altri, al legame, al legame generoso. È questa creatività, ma sì, questa rivoluzione. E la solidarietà è parte importantissima della storia d'Europa. È molto europea, creatrice di cooperazione, di mutuo aiuto, di avventure che realizzano il benessere degli altri. In Europa è una realtà massiccia. Ora, un esempio. Basta pensare che le cooperative in Europa si stima abbiano 123 milioni di soci che partecipano a 160 mila imprese e producono 1.400 miliardi di dollari di reddito. Si potrebbe fare anche poi un accenno al volontariato, che in Italia è una realtà molto importante. Ma qui debbo introdurre l'ultimo problema, che per me è il più importante e ci tengo a trattarlo davanti a voi. Partiamo dal volontariato, come espressione di solidarietà attuale. Però dal 15 al 21 il numero di volontari è calato del 15,7%, 900 mila in meno. Oggi sono 4 milioni 461 mila, come notifica l'Istat. Bisogna indagare sulle cause della riduzione, gli effetti della pandemia, il mutamento dei ritmi di vita, la difficile combinazione tra lavoro e tempo libero. Però è innegabile che il volontariato subisce il volontariato subisce il logoramento di una società dell'io, della solitudine, della vita solitudinaria. Mattia Ferraresi dice che la solitudine è la condizione esistenziale dell'uomo contemporaneo. Il nostro mondo è quello che lo psichiatra Luigi Zoi ha definito molto bene il mondo della morte del prossimo. E allora l'antica tensione alla solidarietà che ha percorso le religioni, il pensiero europeo, i movimenti europei, che si è mossa dalla coscienza che gli esseri umani sono tutti uguali, che ha animato istituzioni, è destinata, mi chiedo, a infrangersi nella distanza tra individui soli, nella distanza da molti lontani e anche la solidarietà internazionale. E qui c'è anche l'indifferenza che noi tante volte proviamo nei confronti di drammi, di guerre lontane. Zoya dice che la prossimità è all'origine della solidarietà e quello che è lontano tante volte non in genera solidarietà. Lo diceva Danti Alighieri, lasciatemelo dire come presidente della società Danti Alighieri, ogni tanto devo fare una citazione. Nel convivio diceva la prossimità e la bontà sono cagioni d'amore generativo. Io però penso che qui va aggiornata quella immagine dell'Italia familista e ridanciana in fondo solidale. Il panorama di oggi, l'ho ripetuto e devo ripeterlo, è quello di un terzo di nuclei familiari composti da gente che vive sola, otto milioni e mezzo di persone, e l'idea di popolo che i partiti di massa e la chiesa coltivavano nel dopoguerra si è ormai dissolta. Resta il populismo come terreno consolatorio di tanti ossoli accompagnati da uno slogan subliminale, tu non sei solo, ci sono io. Il nostro è il mondo delle monoporzioni, rivelatore della solitudine a tavola. Anche qui il cibo è indicativo di una condizione di sofferenza. Ma in questa Italia dei soli, o nelle società della morte del prossimo, c'è un'enorme fame di solidarietà. Innanzitutto c'è un grande bisogno di pane, inteso come cibo. Tre milioni e quattro centomila persone sono coinvolte nella povertà alimentare. E poi chi ha pane, chi ha la monoporzione, ha un incredibile bisogno di parola. C'è la necessità profonda di legami nel mondo degli anziani, che è diventato tanta parte del nostro paese in crescita, che non ce la fa vivere da solo. E purtroppo si trova costretto, dalla cultura corrente o dal bisogno, a scegliere la via della istituzionalizzazione, dove l'anziano viene umiliato in convivenze anonime e l'istituto diventa un'anticamera della morte. L'attesa di un futuro che non ci sarà. Ma anche qui guardiamo il cibo che si mangia negli istituti, servito dai catering, che ha perso sapore e che non rappresenta mai un appuntamento conviviale, cibo senza parole, portato anonimamente ai letti. Un mondo di soli, di invecchiati, è meno disponibile agli slanci di solidarietà o anche agli incontri. E qui si pone la grande questione degli immigrati, cui si reagisce con una politica di chiusura e con la diffusione di sentimenti di paura e di ostilità, che in fondo sembrano pescare nei sentimenti profondi di un mondo invecchiato e spaventato. L'altro ci ruba il lavoro, l'altro ci ruba spazio, l'altro straniero, voglio dire, è un potenziale delinquente. Ma la crisi demografica mette in evidenza il bisogno di accogliere, confermato dalle necessità dell'economia nazionale o solo dal bisogno della cura della persona. Di fronte ai respingimenti e alle morti in mare, Papa Francesco ha parlato di globalizzazione dell'indifferenza, un'espressione molto felice e vera. Ed è difficile sviluppare la solidarietà con chi non si incontra, con i lontani. E invece il rapporto con il mondo dei migranti è l'occasione per una solidarietà più globale, perché quei lontani si fanno vicini. Anzi, accoglierli, essere solidari con loro è allo stesso tempo un grande fatto umanitario e l'espressione di un grande interesse nazionale, perché l'Italia, continui a vivere. Chiudere ai migranti è una disumanità, ma allo stesso tempo ed è allo stesso tempo una grande stupidità. L'esperienza di accoglienza di circa 7.000 profughi in condizioni di fragilità fatta dalla comunità di Sant'Egidio, profughi arrivati in Italia con i corridoi umanitari in collaborazioni con tanti, ha avuto esperienze molto positive, non solo per l'integrazione di coloro che sono stati accolti per il lavoro trovato, gli studi, ma anche per la punzione positiva che hanno avuto nei confronti di chi li accoglieva. Per esempio, borghi, abitati da anziani, senza più l'ombra di un bambino da anni, sono rifioriti attorno all'accoglienza delle famiglie di rifugiati. Si sono rivestiti di allegria, lasciando indietro la tristezza della decadenza, di allegria, perché la solidarietà è anche generatrice del brio della vita, dell'allegria della vita. Una frase attribuita a Gesù, ma riportata dagli atti degli apostoli, afferma c'è più gioia nel dare che nel ricevere. È una legge della vita che capita a molti di noi di dovere constatare. Non è una legge dimostrata da niente, ma una legge che alcuni hanno vissuto. Per concludere, scriveva il nostro de la Boessie nel suo discorso sulla servitù volontaria. Distribuendo ad alcuni di più, ad altri di meno, la natura voleva dare spazio all'affetto fraterno e mettere gli uomini in grado di praticarlo, avendo gli uni capacità di offrire aiuto, gli altri bisogno di riceverlo. La natura ha cercato con tutti i mezzi di formare e stringere forte il legame della nostra alleanza. Cioè per De La Boessie la solidarietà non è a senso unico, ma in un certo senso ha un effetto benefico anche per chi muove il primo passo, per chi crea la relazione e via decendo. Per questo pensatore cinquecentesco l'uomo libero non è l'uomo solo, ma è l'uomo che scopre la solidarietà in legame con i simili. Il pensiero antico della solidarietà, figlio di tante tradizioni diverse, io ne ho accennate alcune, possiamo dire anche alla rinfusa o almeno per come mi sono venute per la mente accanto all'esperienza personale. Il pensiero antico della solidarietà è oggi, proprio oggi, quando la società non solo si globalizza ma si trasforma e si imbarbarisce, è oggi una risorsa decisiva per fermare la disumanizzazione e rimotivare la lotta per una società più umana. Insomma, perché il pane sia condiviso, perché il dono del pane sia legato alla parola. Grazie della vostra attenzione.